Si preparano Sansone, Francesco, Lopozzo e Lossomone. Si preparano per la categoria di 56. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis aurora. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis. Si preparano per la categoria di 50 km, Marrello vive e Iaconis.